buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parleremo di il titolo di questo episodio è piove sul bagnato piove sul bagnato mi è venuto così questa idea che si è illuminata nella mia mente nel mio subcosciente voglio condividerlo con te che mi ascolti dall'altra parte di questo schermo che significa piove sul bagnato quando tu ti ipnotizzi con l'ipnosi dcs vera e professionale anche con un solo audio mp3 dcs o più audio mp3 dcs si verificherà nella tua vita qualcosa di bellissimo di meraviglioso perché positività attira positività bellezza attira bellezza vita attira vita gioia attira gioia sembra la legge dell'attrazione se la conosci ma è la pura verità ragazzi e i primi ad accorgersi dei tuoi miglioramenti da così a così come è successo a me nel 2008 e a centinaia e centinaia di persone nel mondo saranno e sono i tuoi cari i tuoi amici poi te questa è una cosa bella incredibile magnifica strabiliante strabiliante ragazzi ti accorgi che veramente stai ottenendo dei risultati incredibili io quando ho aiutato moltissima gente in tutto il mondo di qualsiasi razza e cultura e aggiungo anche religione con l'ipnosi dcs vera professionale quando hanno messo l'audio faccio un esempio no stress molto controllo dei nervi no depressione no ansia no panico no dolore cronico si sono meravigliati hanno esclamato wow 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 ed eliminato quel problema la loro vita ha iniziato a cambiare si cambia ragazzi una per una volta la persona mi ha detto ma la mia personalità cambio rimane uguale ho detto la tua personalità la tua persona il tuo carattere le tue i tuoi connotati rimarranno uguali in tutto e per tutto tranne che per il freno a mano tirato e che hai adesso tranne per quel problema che tu vuoi eliminare e non l'hai eliminato con nessun altro mezzo a tua disposizione per cui ragazzi pioverà e piove sul bagnato perché sta già utilizzando gli audio mp3 dcs che fanno al coso tuo anche per il tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto che non può essere aiutato da te perché sono molte persone che usano anche gli audio per chi non vuole essere aiutato né online né dal vivo da nessun altro professionista perché si vogliono punire da soli sono tristi depressi dipendenti dall'alcol magari davanti alla tv in pensione è logico che devi seguire le istruzioni molto facile alla lettera alla prova di un nonno alla prova di un pigro e buttare via orologio tempo perché il metodo di cesso non richiede il tuo tempo richiede soltanto l'osservazione maniacale delle istruzioni ripeto ancora una volta molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota e siccome non ti rubano tempo non ti stressano non ti fanno mettere auricolari che ti importa che ti importa segui la lettera sono facili ok per cui ti posso garantire che piove sul bagnato come è successo a me è successo a centinaia e centinaia di persone io sono l'unico caso nel mondo l'unico caso me ne vanto a questo giro che si ipnotizza h24 mente corpo e spirito dal 2008 ad oggi anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra né ai comuni mortali aggiungo neanche a chi sta nel mondo della stessa ipnosi e ricordati l'ipnosi di cs vera professionale un metodo unico al mondo che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da film e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale che da cui io sono partito anni anni or sono da iprotista autodidatta ipnotizzando sulle spiagge 10 20 persone alla volta nei ristoranti per le strade nelle mie aziende in tutto il mondo nei miei uffici e compagni appena ottima nessuno dice il contrario ma l'ipnosi vera professionale di los angeles beverly hills di due grandi artisti dell'ipnosi il professor dottor michelangel garai la dottoressa rina brunini i miei mentori miei associati miei amici per l'eternità e li avrò sempre qui nel mio cuore finché camminerò su questa terra in questa vita anche nelle prossime che ringrazierò per l'eternità mi hanno dato la svolta certo ho messo 10 anni per filmarmi perché non volevo avevo una reputazione o una reputazione da difendere ma poi mi sono detto ma che mi importa se le mie parole i miei consigli a prescindere dagli audio che gestisce addirittura le mie associazioni proleggi associati los angeles beverly hills e neanche il sottoscritto ragazzi non vendo nulla tutto ciò che faccio l'ho ceduto all'associazione proleggi associati di los angeles beverly hills per cui la mia mission è quella di divulgare le mie esperienze dirette e indirette ho sospeso le sessioni online di prons dicesse vera e professionale in tutto il mondo perché non ho tempo ho molti impegni in questo periodo però ti posso garantire che puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona a prescindere da dove risiedi nel mondo sederti fare le domande perché chi domanda comanda e cambiare la tua vita perché l'ipnosi non plus ultra l'ipnosi ripeto ancora una volta vera e professionale e il mio metodo dicesse d'ipnosi dicesse dottore claudio selecino è un'ipnosi veramente unica di cui il 30 per cento del sottoscritto come suggestioni potentissime naturalissime create ad arte il 70 per cento di questi due grandi artisti l'ipnosi vera e professionale dottoressa rena pronini il professor dottor michelangre garai per cui ragazzi che dire quando io ho provato tutto di più ma quando mi sono approcciato questo tipo di ipnosi e questo tipo di suggestione a questa procedura a questo metodo ho esclamato wow come se uno passasse dalla macchina all'auto veda l'autovettura al volare con lo space shuttle ecco quella differenza eppure avevo provate tutto di più è tutto ciò che vedi in giro l'avevo già provato però non mi dava soddisfazione i risultati erano temporanei e bla 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 qui invece hanno risultati duraturi e perenni e se se lo se rispetti alla lettera le istruzioni alla prova di un nonno alla prova di un piccolo alla prova di un idiota ed è controintuitiva non è come quella che vedi in giro dico anche gli esperti di pronosi non si finisce mai di imparare ricordano fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.iproragioassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi appunti prosi del dottore claudio saracino iscriviti per favore a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel qui da quella molla che gli può cambiare la vita come successo a me nel 2008 e centinaia e centinaia di persone nel mondo te lo dico a prescindere da me può andare da chiunque e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao 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 ciao